Benvenuti nel mondo degli orologi Gallet. Gallet è un marchio di orologi svizzero che vanta una storia lunga più di 550 anni. Fondata nel 1466 a Ginevra da Umbertus Gallet, un orologiaio di origini francesi. Gallet ha una lunga tradizione nella produzione di orologi da aviatore e di orologi da polso per uso militare. Nel 1914 l'azienda ha introdotto il Flight Officer, il primo orologio da polso con funzione di cronografo, che ha rivoluzionato il mondo dell'aviazione. Questo orologio è stato utilizzato dai piloti della Royal Flying Corps durante la Prima Guerra Mondiale e ha contribuito a migliorare la precisione e la sicurezza dei voli. Gallet ha continuato a innovare e a sviluppare nuovi modelli di orologi, mantenendo sempre la sua tradizione di eccellenza e precisione. Oggi, l'azienda produce una vasta gamma di orologi da polso, dai modelli classici a quelli più moderni e innovativi. Tra i modelli più noti di Gallet ci sono il Multicron, un orologio da polso con funzione di cronometro utilizzato dagli astronauti della NASA durante le prime missioni spaziali, e il Gallet Chronograph, un orologio da polso con funzione di cronografo utilizzato dai piloti dell'aviazione militare. Gallet è un marchio di orologi di lusso che rappresenta l'eccellenza e la precisione svizzera. Gli orologi Gallet sono apprezzati per la loro qualità, la loro precisione e la loro bellezza.